buonasera c'è un detto in tibetano non so se un detto però comunque una frase che viene che dice non è possibile uno non è capace non è possibile domare la mentre altrui senza prima domare la propria quindi io posso insegnare a te una un concetto che io ho imparato questo è possibile trasmettere però quando noi parliamo di educazione quando noi parliamo di trasmissione da una persona a un'altra di qualcosa non esiste unicamente livello concettuale ci sono tanti livelli quindi se io devo trasmettere un concetto io devo prima di tutto saper conoscere bene quel concetto e devo sapere il giusto linguaggio affinché io a te te lo possa trasmettere questa è una cosa però ci sono tante cose della nostra vita che non sono concetti che noi impariamo c'è una parte enorme del nostro modo di vivere del nostro modo di interagire della nostra propria identità della nostra visione di mondo del nostro paradigma che abbiamo imparato nel contesto in cui siamo cresciuti con le persone con cui abbiamo interagito nella nostra vita a partire dalla nostra infanzia i nostri genitori fratelli sorelle amici noni eccetera che ci hanno educato ci hanno educato siamo questo termine in questo caso io non posso trasmettere a te qualcosa che io non sono che io non ho realizzato perché quando noi impariamo gli uni dagli altri impariamo tantissimo dall'esempio impariamo vedendo l'altro non so se vi siete mai accorti per esempio o verso di voi stessi osservando qualcun altro che a un certo punto fa molta amicizia con una persona che prima non aveva quella amicizia e dopo di un po di tempo comincia a parlare in un modo simile a quella persona comincia a avere delle idee che prima non c'erano comincia a reagire in un modo diverso di quello che magari reagiva prima può succedere o no è normale e nella nostra educazione purtroppo questa parte spesso non viene considerata educazione quando siamo bambini da quando eravamo piccoli mi sa che di bambini qua non ne vedo immagino che la gran maggioranza di noi salvo qualcuno l'appare processo di educazione abbiamo inteso che già finito o no abbiamo già finito di studiare e di educarci nel senso di andare lì educare studiare prepararci per il mondo eccetera eccetera no ed il problema è che quando noi impariamo con qualcuno intorno a noi noi impariamo sia le cose buone che quelle cattive sia quelle che funzionano che quelle che non funzionano tanto bene però mi spiego meglio ci arriviamo prima di tutto nel nostro sistema educativo noi che cosa abbiamo imparato principalmente a scuola quando noi pensiamo che cosa abbiamo studiato abbiamo studiato prevalentemente informazioni concetti abbiamo imparato a ragionare su certe cose tante cose molto importanti io ho tanto rispetto verso la scuola verso quello che si studia eccetera non è una critica quella che sto ponendo non è una critica alla scuola è una critica a quello che spesso lasciamo da parte che invece dovremo integrare però non è una critica alla scuola in questo senso direttamente io credo che l'educazione cosiddetta formale che noi impariamo a scuola è importante perché ognuno deve avere la sua sussistenza deve poter trovare trovarsi un lavoro deve poter interagire nel mondo in cui noi viviamo e quindi tutto questo è importante dalla matematica alla geografia alla storia e tante altre cose sono fondamentalmente importanti non sto togliendo l'importanza di quello però se noi vediamo abbiamo dedicato tanti anni della nostra vita a studiare concetti poi a un certo punto ognuno ha seguito la vita come ha seguito con i suoi lavora con un lavoro piuttosto che un altro eccetera eccetera però dov'è che la vita si fa difficile dov'è che abbiamo il punto dove veramente ci abbiamo bisogno di cercare delle risorse per affrontare dov'è che le difficoltà si manifestano nella vita prevalentemente nella mancanza di conoscenza tecnica o nella mancanza di stabilità emozionale secondo voi primo o secondo siamo d'accordo no perché se io non so come fare un'equazione o se non so qual è la capitale di un paese piuttosto che qualcosa uno c'è google uno va lì scrive chiedi impara si apre per poter imparare conoscere eccetera ma quando io mi trovo davanti a una situazione comincio a sentire ansia o paura o rabbia o invidia e non riesco a gestire le mie emozioni nel rapporto con l'altro non c'è google che ci salva perché non c'è informazione che ci salva in quel momento io anche mi viene in mente questo non è l'argomento però uno dei pensatori abbastanza famoso in questi giorni si chiama Harari in uno dei suoi libri lui descrive una cosa che mi ha fatto riflettere che lui dice quale sarebbe lo strumento più importante che secondo me i giovani d'oggi dovrebbero imparare nello studio perché secondo lui lui dice il domani come sarà il futuro lavorativo nessuno sa dire perché stiamo vivendo adesso una fase di cambiamento molto veloce riguardo anche con tutta la parte dell'intelligenza artificiale eccetera eccetera la propria medicina sta cambiando su questo lui per esempio nel suo libro parla che ci sono già oggi dei software con degli algoritmi di intelligenza artificiale che hanno imparato a leggere le lastre per identificare i tumori e di solito i medici più bravi che ci sono riescono a beccare quando guardano hanno fatto una prova prendendo due tre mila lastre facendo vedere ai vari medici i medici più bravi hanno riescono a zeccare circa intorno ai 70-75% massimo è quello che un medico bravo riesce passando così a occhio a trovare i vari tumori che ci sono e fanno passare in questo computer che di solito li becca intorno al 95-97% quindi diversi ospedali oggi da quello che ho capito io i medici guardano la lastra poi la mettono nel software che va a controllare se non c'è qualcosa che ho sfuggito non ho sfuggito eccetera eccetera quindi in poche parole è una cosa che una persona ha passato anni di studi e di esperienza alla fine c'è un computer che lo sa fare meglio e cosa faccio io che ho dedicato 30 anni della mia vita e ho anche la mia identità che è una delle cose che so fare è guardare una lastra e capire se c'è il tumore o non c'è il tumore e a un certo punto un software che chiunque lo compra sa fare meglio di me questo è altre 20.000 cose tante professioni addirittura c'è un software di intelligenza artificiale per insegnare i ragazzi che va a vedere che cosa i ragazzi hanno dov'è che hanno fatto gli errori quindi torno indietro su quel punto specifico per spiegare quella cosa eccetera ci sono tantissimi ambiti in cui sta cambiando e quello che viene detto è che la risorsa più importante che il giovane d'oggi dovrebbe imparare è la stabilità emozionale perché uno nella vita da qui a 20-30 anni non sappiamo qua dovrà innumerevole volte così viene detto da Harari rinventare se stesso professionalmente perché il mondo cambia così velocemente che uno dovrà rinventare se stesso e non è una cosa facile emozionalmente è faticoso perciò quello che accade è che la stabilità emozionale diventa estremamente importante ma lo è già oggi perché basta vedere nella vita di tutti noi alla fine dei conti la conoscenza tecnica su una cosa o su un'altra è utile ma si può imparare si può studiare si può chiedere una consulenza si può chiedere un aiuto si fa una ricerca si trova in un modo in un altro si risolve ma anche parlando io mi ricordo una volta parlando con una grossa banca in Brasile che mi hanno chiesto di andare a parlare lì da loro parlando con il responsabile delle risorse umane della banca era la Citibank in Brasile e mi chiese io gli ho chiesto ma che cos'è che per voi come banca come società vi crea più difficoltà la mancanza di preparazione tecnica e di conoscenza nei vostri dipendenti o la mancanza di stabilità emozionale ma non ci hanno pensato neanche un secondo detto la mancanza di stabilità emozionale il resto si risolve facilmente e se noi vediamo anche basta guardare non lo so all'interno della nostra propria famiglia ma è capitato che ci sia un conflitto rifaccio la domanda avete mai conosciuto una famiglia dove non ci fossero conflitti ok da lontano a vedere da lontano magari c'è qualcuno che sembra quella famiglia lì da vicino nessuno è normale da vicino c'è sempre uno che c'è una storia di qua un altro di là eccetera eccetera e noi che viviamo in una parte ricca del mondo che cosa crea conflitto nella famiglia la mancanza di risorse materiali eccetera o la mancanza di stabilità emozionale fra tutti è quello ok perciò quanto è importante nella nostra vita la stabilità emozionale per poter vivere in pace di 0 a 10 ovviamente quanto è importante aver da mangiare tanto e non mi ricordo ma credo che qualche settimana fa un po' di tempo fa ho parlato delle quattro necessità e le quattro generosità le quattro necessità che noi abbiamo è la necessità materiale la necessità emozionale la necessità di sicurezza e la necessità spirituale io non posso coprire la necessità spirituale che la necessità spirituale è la necessità di fare qualcosa che dia senso alla vita sentire la vita significativa fare qualcosa che abbia un significato per noi nella vita ma io non posso fare quello finché io mi trovo in una situazione in cui non sono al sicuro se io mi trovo che sono in una situazione nella quale ho delle problematiche di sopravvivenza ho una situazione che non sono al sicuro eccetera prima ho coperto quello poi io ancora prima di quello ci sono le necessità emozionali se io ho un forte stato di conflitto di paura non mi sento amato eccetera eccetera quello va prima di tutto risolto se no le altre cose non sono di così tanta importanza non si riesce a risolverle e prima di quello ancora ci sono le necessità materiali se io ho fame devo mangiare poi posso pensare che è il mio rapporto con la mia madre piuttosto che cosa succede col mio figlio quello mi vuole bene quell'altro invece mi ha detto di no che ne so io non parlo ma prima devo mangiare no perciò abbiamo una necessità materiale abbiamo una necessità a livello emozionale abbiamo una necessità di essere in un contesto in cui siamo protetti e sicuri e poi abbiamo una necessità spirituale la cosa interessante è che quando noi riusciamo a soddisfare la necessità spirituale le altre perdono di importanza anche se non ci sono uno continua a star abbastanza bene quando uno ha stabilità emozionale la parte materiale ha un peso minore ma per avere stabilità emozionale prima devo soddisfare la necessità materiale ok quindi queste quattro vanno che quando uno raggiunge l'ultima anche se vengono a mancare le prime tre uno riesce a mantenere il proprio equilibrio ma per aggiungere la quarta devo aver aggiunto prima la terza e quindi la seconda e poi la prima ok perciò giustamente nella nostra vita la necessità materiale va soddisfatta ma quello che noi vediamo con molta chiarezza nella vita che noi facciamo è che la necessità materiale di tutti noi è coperto o no immagino di sì ok io non ho mai conosciuto nessuno in questo contesto qua in Italia che muoia di fame che non abbia da mangiare c'è chi ha una vita più agiatta che ha una vita meno agiatta c'è chi fa fatica a pagare le bollette a fine mese eccetera eccetera chi deve stare lì a vedere la temperatura a casa per assicurare il gas quanto mi costa quant'è ecco non è c'è chi se ne frega aveva la vita tropicale di mezzo all'inverno però una cosa è un po' diciamo il comfort un'altra cosa è la sopravvivenza io ho vissuto tanti anni in India vengo dal Brasile una persona veramente povera so cos'è avere difficoltà di sopravvivere è un'altra cosa molto spesso noi viviamo nella crisi del superfluo però quello è un altro discorso ancora però il punto di partenza è abbiamo abbastanza materialmente e cosa noi vediamo che riempire materialmente non riempie tutto il vuoto perché quella parte è coperta abbiamo bisogno di coprire la seconda che è quella emozionale perché quando noi parliamo con le persone all'intorno quando arriviamo e riusciamo a parlare con un attimo di sincerità dove chiediamo come stai e uno può dare la prima risposta che di solito è formale va bene non va bene ma sì ma come però a un certo punto se è qualcuno che conosciamo un po' o se abbiamo l'opportunità di guardarci negli occhi e diciamo ma come stai veramente e uno si permette un attimo di rilassarsi e aprire le proprie sofferenze nella maggioranza dei casi delle quattro necessità a quale fa riferimento la seconda la difficoltà nei rapporti umani alla propria ansia alla propria paura eccetera eccetera ok poi c'è chi per esempio invece è in uno stato emozionalmente abbastanza stabile sicuro però sente un vuoto nella vita che deve riempirlo sente che quello che fa non ha tanto senso e quindi siamo alla quarta necessità in questo senso uno in generale sta bene però c'è questo vuoto che in qualche modo va riempito c'è anche di quello ovviamente noi non è queste quattro stadi non è che sono in qualche modo compartimentati ermeticamente uno l'altro si sovrappongono anche perciò tutto questo per arrivare che la necessità materiale in gran parte della nostra vita è coperta la necessità emozionale meno parliamo di questi primi due quanto abbiamo dedicato nella nostra vita ad imparare a studiare a formarci più che studiare come formazione per una vita da un livello emotivamente sano quanto ci hanno insegnato quanto abbiamo imparato quanto ci siamo formati per relazionarci con gli altri in un modo sano non so non sarebbe bello se a scuola ci fosse no quella materia che è relazioni umani rapporti umani e non sto parlando che dobbiamo per forza andare ad attingere la filosofia buddista la psicologia che c'è tanto da offrire riaccettata in un modo ampio nella nostra società farebbe bene o no ma noi non abbiamo chi è che ci ha formato dal punto di vista dei rapporti umani abbiamo ricevuto una formazione non concettuale ma una formazione sulla base dell'esempio è stato la nostra famiglia i nostri genitori il contesto in cui siamo cresciuti eccetera eccetera e non so se vi è mai capitato di aver criticato uno dei vostri genitori per il loro comportamento e a un certo punto vi accorgete che state facendo lo stesso che state ripetendo le stesse dinamiche e uno non non se neanche accorto in qualche modo a me mi è capitato e credo che sia capitato un po' più o meno a tutti dipende dell'età c'è chi non è che magari è ancora arrivato lì però di solito succede o no perché? perché noi impariamo siamo stati formati da questo punto di vista non è che non siamo stati formati però abbiamo ricevuto una formazione nella quale si trasmette qualcosa che non è che ha funzionato del tutto dipende di chi in certi casi meglio su certi aspetti peggio su altri viceversa c'è di tutto no? però se io ho dei fili e io cresco i miei fili io sto trasmettendo a loro insegnando a loro formando a loro sulla mia visione di mondo sul mio modo di interagire di fare di essere ok? e noi siamo cresciuti in un contesto questa parte è quello che la Maganchen chiamava l'educazione non formale quello che la Maganchen ribadeva molto spesso era che l'educazione formale va bene è stato proprio qui al Cump nel 97 quando parlo di questo la prima volta e se l'educazione è formale va bene però non basta e l'educazione non formale intesa la parte della nostra vita dove impariamo come relazionarci con noi stessi come relazionarci con gli altri la parte emozionale eccetera eccetera è qualcosa che una volta veniva data questa educazione dalla comunità dalla famiglia nel senso più ampio una cosa per esempio che io ritengo che sia molto importante per gli anziani è importante interagire con una certa frequenza con i bambini e per i bambini è importantissimo interagire con gli anziani io mi ricordo una volta un tibetano un medico tibetano una persona con una buona conoscenza esperienza parlando così con lui lui ha detto dopo un po' di anni in Italia mi disse uno dei problemi che vede in Italia è che i bambini stanno solo fra bambini i bambini fra bambini dopo crescono degli adulti insopportabili così detto parole sue e lui diceva i bambini devono crescere con gli anziani i bambini che crescono sempre anche interagendo fra bambini non è che un bambino non devi vedere nessun bambino non sta parlando di quello però il bambino che interagisce spesso con gli anziani cresce meglio e viceversa e fa molto bene anche per l'anziano che abbia un contatto continuo con i bambini questa parte dell'educare a relazionarci gli uni con gli altri tra l'educazione emozionale nel nostro sistema oggi viene un po' trascurata perché i genitori devono lavorare e dopo tutto il giorno con le mini menate che uno c'ha da affrontare fra il proprio rapporto nella coppia il lavoro che deve fare le cose che vorrei fare non posso fare i problemi che c'è di qua e che c'è di là eccetera eccetera come faccio a dedicare del tempo con qualità per io stesso poter imparare poter fare qualcosa per trasmettere qualcosa di meglio è faticoso o no io tutti i genitori che vedo veramente ho tanto di capello perché vedo uno sforzo una dedicazione meravigliosa non sto mettendo questo in discussione però una volta c'era anche ruolo all'interno della religione di educare questa educazione non formale ma oggi come oggi molto spesso l'educazione non formale chi la dà? la televisione? i media? o no? quante ore al giorno uno passa davanti a uno schermo? tutto questo è educazione è formazione però noi siamo già passati no? tutto è che siamo qua a parlare educazione ai bambini non è il nostro campo almeno non è il mio ma il punto è che questa educazione non formale anche se la nostra infanzia è già finita noi siamo sempre in tempo di auto educarci ed è una cosa molto importante noi non possiamo passare come no questo non ci non importa e ormai tanto è già passato e non posso fare più nulla no possiamo educarci e questo è fondamentale avere la consapevolezza e mettere in atto per dire io ho imparato delle cose però magari mi conviene imparare altre non è detto che per forza di cosa debba essere così che ho imparato io con tutta la gratitudine del mondo verso i miei genitori i miei insegnanti i miei noni e tutti gli altri che mi hanno curato cresciuto con amore eccetera eccetera certe cose funzionano altre cose funzionano meno ma oggi ho la capacità di discernimento e posso rieducarmi e questo è qualcosa che tocca a noi anche perché qua c'è un altro punto fondamentale non so spero riuscire a spiegarlo bene secondo la visione che ho imparato dentro del buddismo noi abbiamo quattro principali caratteristiche che formano il nostro essere e il modo in cui noi viviamo il mondo ok su queste quattro io aggiungo un'altra quinta e volendo aggiungiamo un'altra ancora sei che di solito io parlo di cinque oggi aggiungiamo un'altra la prima caratteristica che va a determinare il nostro essere viene chiamato in tibetano Rikkyo Giyönten che sarebbero le caratteristiche la parola in tibetano Giyönten anche si traduce come qualità però in questo caso meglio secondo me tradurre come caratteristica le caratteristiche che derivano dai nostri antenati in altre parole abbiamo delle caratteristiche genetiche usando un termine più moderno ossia le esperienze che i miei genitori fino alla prima fino alla mia nascita i miei noni bisnoni eccetera eccetera hanno vissuto hanno un'impronta su di me oggi quindi ognuno di noi porta con noi una materia genetica un materiale che dopo nella vita si può sviluppare in un modo piuttosto che in un altro però ha una forte influenza sulla nostra vita anche questo la seconda caratteristica viene chiamata le caratteristiche inate le caratteristiche inate o l'enkyegyo in tibetano sono le predisposizioni che noi portiamo con noi da una vita a un'altra e che abbiamo dentro di noi sono le impronte delle nostre profonde abitudini e questi hanno una forza enorme perché quando noi ci troviamo davanti a una situazione piuttosto che un'altra il modo in cui noi andiamo a reagire dinanzi a quello molto spesso dipende dalle predisposizioni che noi abbiamo ok chi ha avuto più di un figlio o dei fratelli i bambini sono uguali quando nascono o sono già diversi sono già diversi una volta l'amagange dice avere un figlio è come invitare uno strano a venire a vivere con te per tutta la vita perché non sai chi arriva veramente non facciamo la minima idea chi è chi arriva lo accogli dai parte del tuo corpo perché quello che noi chiamiamo mio corpo in realtà è l'ovolo e lo sperma che messi insieme sono stati nutriti e sono cresciuti è diventato questa roba qua non è mio corpo è il corpo dei miei genitori che ho preso in prestito in cui mi trovo e mi riconosco però avere un figlio viene definito come invitare un estraneo a vivere con noi e le predisposizioni che portano sono fortissime hanno un'influenza enorme nella nostra vita ma tutti i cinque sono importanti tutti i sei oggi aggiungiamo un altro però sono importanti la terza sono le caratteristiche che derivano dalle informazioni che abbiamo ricevuto quindi contesto socioculturale quello che abbiamo letto ascoltato visto le informazioni che abbiamo acquisite tramite i nostri sensi quindi l'educazione la scuola imparato ascoltato detto tutto questo forma parte della nostra visione di mondo del nostro essere la quarta caratteristica sono le caratteristiche che derivano non da quello che abbiamo imparato ma delle esperienze che abbiamo vissuto non dall'informazione ricevuta ma dall'esperienza soggettiva che noi abbiamo avuto dinanzi alle varie situazioni e la nostra esperienza parla tantissimo anche siamo condizionati anche da quello poi volendo potremo entrare in dettagli su ognuno però non è il momento la quinta caratteristica che di solito non viene nominata ma secondo me ha un'importanza grande nella nostra vita è il nostro proprio corpo nella nostra percezione della realtà nella nostra esperienza del mondo quanto è importante lo stato fisico in cui ci troviamo secondo me tantissimo e qua apro e chiudo una parentesi veloce il mio intendimento è che corpo e mente sono due manifestazioni della stessa cosa immaginiamo una sala con due porte la sala è l'essere una porta è il corpo un'altra porta è la mente quello che entra da una porta entra in quella sala quello che entra dall'altra porta entra in quella sala e quello che entra da una porta ha un'influenza sull'altra porta e viceversa e qualcuno direbbe ma cosa succede quando muore quindi quando muore quello che continua è il corpo e la mente molto sottili quindi corpo e mente grossolano vanno insieme corpo e mente sottili vanno insieme corpo e mente molto sottili vanno sempre insieme quindi questo è un mio intendimento fatto sta che il nostro corpo oggi ha un'influenza enorme sul nostro stato d'animo su come noi sulla nostra mente sul nostro modo di percepire la realtà e così via io ho cominciato a riflettere più su questo una volta che con la cagnolina dovevo andare e la silvia la veterinare l'amica mi disse ah devi fare una cosa vai nel bosco visto che lì ad albaniano c'è il bosco e a un certo punto per creare un certo tipo di rapporto lascia l'andare ti nasconde un po' dietro un albero e lascia che sia lei a tornare per cercarti ok fatto funzionato eccetera poi ho detto a te viene bene perché sei vestito di rosso e il bosco è verde ho detto e cosa c'entra perché agli occhi di un cane il rosso e il verde sono praticamente lo stesso colore perché noi vediamo i colori come noi li vediamo no? almeno io immagino che voi vedete come vedo io che poi non è detto però noi esseri umani percepiamo un certo parte dello spectro luminoso altri animali percepiscono altre e noi percepiamo una parte minima dello spectro luminoso in realtà c'è molto di più di quello che noi possiamo vedere e noi crediamo di vedere tutto e noi crediamo che quello che io vedo è la realtà invece io vedo i colori in un certo modo io vedo le cose in un certo modo perché io ho questi occhi qui vivo in questo corpo se io avessi occhi diversi vedrei diversamente ma non ci sono mille altri esempi basta che gli ormoni si sbalano un po' cambia la nostra percezione della realtà o no? si quando uno è molto stanco quando uno è pieno di energia cambia no? e noi percepiamo il mondo tramite il nostro corpo è diverso come percepisce il mondo una persona da adolescente e da anziano perché il corpo è cambiato per esempio una volta ero nel monte rosa e stavo camminando scendendo e da un certo punto era una parte abbastanza non era per niente agevole a scendere una sorta di non è neanche una gradinata scendere in montagna con alcuni passaggi piccoli altri molto alti e così via andavo con una certa attenzione perché le ginocchia non è che sia la cosa più confortevole no? a un certo punto passa un gruppo di ragazzini a una velocità spaventosa saltando da un pezzo all'altro e c'è la mia madre che guarda e dice vedi questo è un esempio chiaro perché fino a 21 anni il cervello non è pienamente sviluppato e la parte del cervello che genera paura è inibita quindi quello che succede è che in questa età per permettere alla persona di imparare e fare nuove esperienze il cervello non ha quella parte del aver paura delle cose è pienamente sviluppato è praticamente inibita quella parte lì perché uno che avesse un minimo di esperienza di aver caduto un paio di volte o ci pensa un po' se cado lì non salta in quel modo no? che poi aggiunto il centro per questo che il cervello finisce il suo sviluppo a 21 anni e comincia a invecchiare con quanti anni? 25 abbiamo quei 4 anni lì in mezzo e già si comincia a degenerare in un certo modo e qui apro e chiudo una parentesi anche un giorno ero con mio nono che adesso c'è a 98 aveva l'epoca 85 non lo so quant'era mio nono era lì col suo iphone che giocava ecco nono cosa fai? no sto facendo questo gioco ma ti piace? mica tanto e perché lo fai? perché devo tenere la mente allenata a imparare cose nuove perché più vai avanti negli anni più la capacità cognitiva la memoria a breve termine indebolisce quindi uno deve tenere la memoria a breve termine allenata se no dopo di un po' perde memoria perde contatto con la realtà lui effettivamente c'ha 98 c'ha la presenza la memoria eccetera perché si è tenuto allenato però possiamo anche noi cominciare a un certo punto perché non è che c'è da aspettare chissà quando e se c'è una cosa bella è a imparare cose nuove però io non so il perché arriva un momento della nostra vita nella quale sembra che non dobbiamo più imparare cose nuove non c'è più da studiare non c'è più da conoscere ormai abbiamo imparato abbiamo fatto un mestiere facciamo quello che facciamo ma dobbiamo semplicemente mantenere la macchina della vita che va avanti invece imparare cose nuove studiare conoscere è importantissimo anche da un punto di vista della salute mentale chiudo parentesi fatto sta che il nostro corpo a secondo di do com'è cambia la percezione che abbiamo della realtà pericolo non pericolo mi sento bene nervoso non nervoso sono tantissime cose anche quello che vedo quello che sento eccetera eccetera no? altri esempi ma non c'entra adesso quindi abbiamo l'aspetto genetico le predisposizioni che noi portiamo con noi da una vita a un'altra abbiamo l'educazione le informazioni ricevute le esperienze vissute il corpo e il sesto punto che volendo possiamo aggiungere che è fondamentale è quello che viene chiamato che va insieme con le predisposizioni che viene chiamato un po' generalizzando di karma karma non vuol dire assolutamente destino karma vuol dire la forza karmica la forza delle azioni generate nel passato ossia quando io faccio un'azione interagisco con qualcuno qualunque cosa che io faccio fisicamente verbalmente o mentalmente genera un'inerzia un'energia che segue che continuerà finché non interagisce con qualcos'altro e dà un risultato la metafora che per me l'analogia che per me meglio funziona è quella che se io prendo un oggetto un bastone e lo lancio l'azione di lanciare il bastone quando finisce quando apro la mano ma il bastone continua a volare quel momento in cui io apro la mano il bastone continua a volare quello che fa il bastone volare è la forza che lo spinge l'inerzia di quell'azione che va avanti cosa succederebbe con questo bastone se io lo lanciassi nello spazio continuerebbe finché così teoricamente io non ho mai lanciato nulla nello spazio non lo ve lo so dire però teoricamente da quello che abbiamo imparato abbiamo visto nei film di scienze cosa dicono se io lancio una cosa nello spazio che quello continuerà finché non andrà sbattere su qualcos'altro perché quando io lancio qua dopo di un po' cade perché entri in contatto con l'atmosfera e con la gravità queste due forze fanno in modo che io lancio e piano piano torno al centro della terra perché c'è la gravità che lo tira e c'è il contatto con l'atmosfera questo fa in modo che ci sia un attrito e ci sia una forza che lo tira verso il basso ok perciò la mia azione di lanciare il bastone ha finito ma quella forza interagisce con altre forze e quindi a un certo punto ha un suo risultato ma quella forza lì se non interagisse con null'altro continuerebbe sempre finché non troverebbe qualcosa su cui interagire e a questo punto abbiamo il cosiddetto risultato se io lancio il bastone e prima che cada per terra a causa della gravità e dell'atmosfera eccetera qualcuno ci passa davanti e li prendi in testa e la persona ha beccato il bastone in testa è il risultato di che cosa? il risultato diretto non del fatto che io l'abbia lanciato è un risultato diretto dell'inerzia della forza che c'era di quel bastone ok? della delazione che ho fatto qualunque azione noi compiamo genera una sorta di inerzia viene chiamato in tibetano leg nuba si può tradurre come la forza dell'azione o la forza karmica noi portiamo con noi oggi nel presente la forza l'inerzia di tutte le azioni che noi abbiamo compiuto nel nostro passato da oggi a l'infinito tutte le forze no perché quelli che hanno già dato risultati ormai non ci sono più per finché quella forza non si esaurisce quella forza continua con noi quindi noi abbiamo con noi oggi l'educazione che abbiamo ricevuto le esperienze il corpo la genetica le predisposizioni mentali e le forze che abbiamo generato nel passato le azioni che abbiamo compiuto cosiddetto karma con tutto questo noi viviamo il presente ok adesso c'è un un amico che ogni tanto diceva un detto in tibetano che quando vedeva qualcuno fare qualcosa di stupido ok lui diceva shimo gonakibor felice lui se non dovessi morire cosa vuol dire questo io compio un'azione agisco interagisco con qualcuno per esempio vado ad agire con violenta con violenza con aggressività mentire fare del male agli altri eccetera magari al momento presente quell'azione che compio sembra che non abbia nessun effetto negativo su di me però nel tempo quell'energia io la porto come quella forza di quell'azione la porto come prima o poi il risultato io lo vivo ok perciò a un certo momento della nostra vita arriverà una cosa che noi generalmente chiamiamo di morte e non credo che abbiamo nessun dubbio su questo no prima o poi moriremo o no siamo sicuri no sicuri sicuri ok che cos'è la morte se siamo così sicuri che cos'è noi in realtà siamo sicuri di una cosa che ci sarà un giorno in cui questo corpo non funziona più punto ma che cosa succede veramente è tutto un altro discorso ok partendo da un presupposto che la morte è il momento nel quale questo corpo smette di funzionare e c'è qualcosa che c'è anche oggi che è un aspetto più profondo del nostro essere che continua dopo la morte e qua ogni religione ha un po' la sua spiegazione eccetera nel buddismo parliamo del corpo e la mente molto sottile che continua dopo la morte il continuo mentale c'è chi lo chiama di anima possiamo chiamare in diversi modi il fatto sta che c'è qualcosa che continua ma anche se noi non pensiamo alla morte in questa vita se pensate per ognuno di voi quante vite avete avuto in questa vita io secondo me sono alla quinta ok quando è che si passa da una vita a un'altra c'è un momento nel quale uno pensa no sarà così per sempre poi a un certo punto quelle relazioni finiscono quel contesto non c'è più e uno si trova in una realtà diversa e quello che c'era prima non c'è ci sono i risultati c'è un'interazione però effettivamente è come se fosse un'altra vita viviamo in luogo in un luogo diverso interagiamo con persone diverse abbiamo anche attitudini diverse su certi versi siamo cambiati non siamo la stessa persona di prima o no e comunque sia anche se passiamo da una vita a un'altra all'interno di questa stessa vita c'è un qualcosa di noi che continua che c'era ieri che c'è oggi e che ci sarà domani ok questo continuo questo flusso continuo e dobbiamo prendere cura di quello che continua perché le situazioni che noi viviamo vengono e vanno cominciano e finiscono se c'è una situazione che non ci piace basta aspettare sicuramente finirà mi ricordo una volta che ero andato a trovare un maestro si chiamava Chiavcella Tirimpoce uno dei principali discepoli di Trician Rinpoce maestro di Lama Ganchen e c'era una situazione nei vari monasteri in India eccetera molto difficile brutta eccetera non vengo ai dettagli adesso che non è il caso io vado lì vado a trovarlo non volevo parlare di quella di quell'argomento non era il punto arrivo dopo di un po' lui tocca l'argomento e dice c'è quella situazione lì e lui mi dice per fortuna anche le cose brutte sono impermanenti prima o poi passano però il problema vero il punto reale problema o non problema comunque il punto reale non è che le situazioni passino e cambino ma è che in che modo noi ci siamo trasformati in questo cambiare abbiamo parlato di cinque caratteristiche nostre se alla fine il corpo abbiamo controllo fino a un certo punto è limitato il livello di controllo che noi abbiamo possiamo allenarci tenere la mente e il cervello sano allenandoci a imparare cose nuove possiamo mangiare in un modo sano possiamo vivere nel modo più sano possibile però se abbiamo già più di 25 anni la nostra tendenza giorno dopo giorno è di invecchiare naturalmente ok quindi prima o poi il corpo sempre si digenera sempre di più anche se la vecchiaia da quello che ho imparato non avviene da un punto di vista dell'esperienza soggettiva effettivamente non avviene in modo graduale ma avviene a gradoni uno può passare un periodo abbastanza lungo che sembra più o meno tutto uguale poi a un certo punto c'è un piccolo incidente succede un qualcosa eccetera è come se fosse invecchiato di 10 anni e qualcuna volta non mi ricordo più chi mi disse sì effettivamente la vecchiaia avviene a gradoni non avviene in un modo graduale comunque sia il corpo si degenera non c'è molto da fare le informazioni che abbiamo ricevuto l'educazione che abbiamo avuto possiamo rieducarci sì però il giorno che noi moriamo la conoscenza che noi abbiamo finisce con noi perché la mente grossolana finisce lì noi non portiamo con noi se no sarebbero i bambini che rincarnano che hanno già non devono già fare l'università già fatto io ho conosciuto dei bambini con una capacità intellettiva incredibile per in cui per loro nel contesto specifico del buddismo era molto più come ricordare che imparare c'è questo ragazzo con cui ho studiato anche Silinto Ungorempuce lui memorizzava circa 1500 pagine all'ano aveva una capacità incredibile da un punto di vista intellettuale eccetera specifico nel contesto del buddismo anche però comunque sia quando uno muore la parte della conoscenza finisce ritorna bambino babo babama ma imparare a b c deve imparare da capo quindi la parte le nostre caratteristiche che sono basate sulla nostra conoscenza finisce lì le nostre esperienze anche quelle finiscono lì per fortuna per fortuna perché io ho una delle cose che ho riflettuto un po' di volte quando ho letto che c'è chi sta cercando di diventare immortale sembra un po' uno scherzo però effettivamente c'è chi investe centinaia di milioni di euro per fare studi sull'immortalità e poi lì ci stavo riflettendo come sarebbe uno di 500 anni no perché dice che dall'anno 2030 secondo queste pubblicazioni di studi eccetera chi avrà secondo loro dall'anno 2030 chi avrà soldi abbastanza per pagare e un corpo relativamente sano potrà vivere per almeno 200 300 anni io mi sono immaginato la scena di una persona di 150 200 anni 250 che va dal psicologo il povero psicologo che deve cercare di capire ma quale trauma è ma di dove viene perché il problema qual è se io ho un trauma cosa facciamo noi durante la nostra vita lo rinforziamo o lo superiamo la nostra tendenza è è rinforzarlo vivere 300 anni in un modo fisicamente e mentalmente sano emozionalmente sano ben venga però la tendenza della gran maggioranza di noi non è quella perciò quando uno muore almeno c'è un risetto a livello grossolano no è un punto a Casano ma perché ok è arrivato fino a un certo punto tanti dei traumi tante delle cose a livello grossolano si fa una pulita perciò le conoscenze non portiamo con noi le esperienze neanche meno male su certi versi perché per chi fa una vita molto sana e ha una visione di mondo molto equilibrata andrebbe bene riportare continuare a portarseli con sé altrimenti meglio ripartire da capo la parte genetica non portiamo con noi perché anche quella dipende da quale dove rinasciamo con quale vita eccetera però c'è una parte che continua sempre sia in questa vita indipendentemente dal contesto dal momento eccetera che dopo che sono cosiddette predisposizioni le predisposizioni in tibetano viene chiamato di pakcha che può essere tradotto come le impronte le predisposizioni che noi portiamo con noi un esempio una persona che è abituata a mentire tantissimo rinasce con la predisposizione a mentire le predisposizioni non sono in un modo determinante sono in un modo più probabilistici nel senso che la predisposizione è lì poi se le condizioni la fanno manifestarsi come fanno con cui il seme possa germogliare si manifestano caso contrario rimangono lì aspettando che ci siano le condizioni per manifestarsi però quelli noi li portiamo con noi e le predisposizioni avvengono principalmente da un livello emozionale e un livello di come noi viviamo come percepiamo il mondo qualcuno una volta mi disse sono stato in coma ero da solo con me stesso in altri casi c'è chi dice ero in uno stato malato ero paralizzato non potevo interagire col mondo non potevo muovermi ero da me con me stesso e quando noi siamo da soli con noi stessi possiamo vivere o il paradiso o l'inferno da che cosa dipende da cosa sta succedendo da come noi lo viviamo in quel momento dipende in realtà da come abbiamo vissuto fino a quel momento quali sono le predisposizioni che abbiamo creato le abitudini che abbiamo creato perché quando noi ci dovessimo mai trovare in una situazione di questo genere non abbiamo il tempo per dire aspetta un attimo fammi pensare mente positiva dove mando la mia mente cosa faccio non c'è tempo per questo non abbiamo il tempo per direzionare le nostre emozioni tramite un processo concettuale non c'è più tempo noi seguiamo le abitudini e per questo è fondamentale anche per questo familiarizzarci con le abitudini virtuose positive perché io non so quanti anni vivrò diciamo che io abbia una lunga vita in questo caso come mio nono paterno ok oggi c'è a 98 lui è riuscito a ringiovanire da quando ha dovuto prendere cura della nona sta abbastanza bene con tutto quello che un corpo di 98 anni di solito ha con tutte le problematiche insieme però nel suo insieme sta abbastanza bene sta bene però chi mi può assicurare se io dovessi avere una vita molto lunga è così per ognuno di noi chi ci può assicurare che saremo sani fisicamente nessuno chi ci può assicurare che avremo una situazione materiale stabile qualcuno basta un niente perché certi equilibri che sembrano permanenti solidi non ci siano più purtroppo è così certi equilibri dell'economia sembra così solido sai quanto ci vuole perché croli purtroppo non tantissimo ma è la natura di come sono le cose certi equilibri da livello sociale materiale eccetera cambia le cose cambiano quindi chi ci dà la certezza che arriveremo alla nostra vecchiaia e avremo un corpo sano o una situazione materiale stabile nessuno chi ci dà la certezza che avremo delle persone intorno a noi che prenderanno cura di noi con amore qualcuno ci dà questa certezza indipendentemente dal fatto che abbiamo venti fili o nessuno nessuno ci dà questa certezza però una cosa io sono certissimo quando io arriverò alla mia vecchiaia o prima quando avessi bisogno che io sia ricco o che io sia povero che io sia da solo o che io sia in compagnia buono o cattiva che io stia fisicamente bene sano o che io sia malato la stabilità interiore mi aiuterà la gratitudine mi aiuterà l'amore mi aiuterà la pazienza mi aiuterà in qualunque di questi stati io mi trovi la rabbia mi farà del male l'invidia mi farà del male l'insoddisfazione mi farà del male l'ansia mi farà del male la paura mi farà del male e così via perciò il punto dove ci stiamo direzionando è che nella nostra vita noi abbiamo controllo fino a un certo punto le situazioni avvengono i modi che speriamo i modi che non speriamo certe cose vanno bene altre cose vanno male c'è chi nasce c'è chi muore c'è cose che funzionano bene lavori che vanno bene lavori che non vanno bene nei momenti in cui l'economia va su i momenti in cui l'economia va giù c'è di tutto ok però nell'insieme di tutto questo il modo in cui noi andiamo a vivere interagire con il mondo va gradualmente a coltivare e a modellare il nostro essere che continua e io cosa voglio coltivare soddisfazione pace gratitudine amore compassione rispetto umiltà generosità gioia io voglio evitare la rabbia la gelosia l'invidia la paura l'arroganza eccetera eccetera ed è qua che entra la nostra educazione non formale che dobbiamo fare noi stessi non solo per poter relazionarci meglio con le altre persone che ci stanno intorno e avere una vita un po' più equilibrata ma pensando anche al nostro futuro indipendentemente dal fatto di ciò che avviene dopo la morte in questa vita stessa perché io sono sicuro che ognuno di noi ha il proprio bagaglio fatto delle nostre esperienze fatto dell'educazione educazione intesa non solo le informazioni ma anche quello che abbiamo parlato prima dei nostri genitori eccetera eccetera fatto del nostro DNA tutto di quello di cui abbiamo parlato prima però quello che accade è che tutto questo è in continua trasformazione addirittura il DNA non è una cosa sei nato sei così e così rimane per sempre quello che viene chiamato l'epigenetica in cui fa vedere che il nostro DNA cambia a secondo delle esperienze che viviamo e lo stile di vita che abbiamo perciò se io ho dei fili non è che il DNA viene trasmesso identico come ho ricevuto no io man mano che vivo il mio DNA si trasforma a secondo delle esperienze che io vivo la stessa cosa è per livello da visione di mondo che abbiamo il corpo e tutto il resto quindi dipende in quale direzione noi decidiamo trasformare noi stessi e la domanda che io mi pongo è qual è la mia priorità a breve termine medio termine o lungo termine però non concettualmente io chiedo a un livello sincero profondo poi vediamo concettualmente breve termine vuol dire il momento presente io ho quello che voglio a star bene punto quello succederà domani non lo so tanto voglio adesso star bene medio termine è pensando ai prossimi anni pensando fino alla fine di questa vita lungo termine è saper vedere oltre questa vita le nostre scelte vengono fatte con la consapevolezza del benessere nostro a medio lungo medio o breve termine di solito quando è a medio è già buonissimo di solito è breve dei tre livelli quale è più importante quello che accade a lungo medio o breve termine lungo perciò è importante per noi chiederci quale sono le mie priorità che poi quelle che sono le priorità a lungo termine sono importanti di beneficio anche a breve termine poi non è che vanno a discapito del breve termine magari un po' sì perché fare ciò che mi fa bene a lungo termine non sempre è piacevole perché non seguire le nostre abitudini non sempre è piacevole guardarci negli occhi affrontare le nostre ombre non è piacevole però ci fa bene avere l'instinto avere come si dice la forza interna della rabbia piuttosto che della gelosia o dell'invidia e non lasciarsi prendere non bloccare quell'emozione ma lasciarla fluire senza seguirla non è piacevole è faticosissimo però fa bene a medio o lungo termine a breve termine è faticoso però fa bene perciò cosa io voglio io voglio il mio benessere mio e di quelli che mi stanno intorno però parliamo di noi stessi perché in fondo siamo egoisti o no però almeno cerchiamo di essere egoisti nel modo giusto no? nel senso di fare ciò che veramente ci fa bene e quando noi parliamo di ciò che ci fa bene prendiamo per esempio il corpo la nostra cosa più importante del corpo è saper coltivare bene la nostra salute io non so quanti di noi abbiamo una buona consapevolezza e diamo priorità alla nostra salute a coltivare e mantenere la nostra salute il modo in cui mangiamo in cui interagiamo in cui pensiamo le nostre proprie emozioni il luogo in cui noi andiamo quanto abbiamo uno stile di vita che prenda effettivamente fra le sue priorità la nostra salute fisica mentale che poi vanno insieme molto spesso no altre volte ma se io voglio avere una vita lunga e sana io devo coltivare la salute già da adesso devo fare delle scelte a mangiare questo non mi fa bene adesso non c'è niente di male però nel lungo andare mi fa male quindi devo evitare allenare la mente come diceva mio nono a imparare cose nuove magari in questo momento non sembra così importante però nel lungo andare diventa importante non posso cercare di allenare la mente alla memoria a breve termine una volta che l'ho già persa devo cominciare quando ho una buona memoria quando è che devo prendere cura della salute quando la possiedo non quando mi amalo però le nostre scelte quotidiane che riguardano il corpo quanto spesso sono direzionate verso il medio a lungo termine sarebbe meglio se fosse sempre ma io non vedo questo di solito ah ma mi piace mangiare quello ma chi me ne frega che ti piace no c'è anche il detto italiano l'erba voglio non nasce neanche nel giardino del re voglio mi piace ti fa bene fallo non ti fa bene lascia stare ma mi piace ma mi piace ma è l'esempio di un oggetto che è in equilibrio quando l'oggetto è in equilibrio la forza spinge verso l'equilibrio quando comincia a cadere quindi non è più in equilibrio la forza spinge verso lo squilibrio e un medico una volta mi disse quando il corpo è sano il corpo è attratto da ciò che mantiene lo stato sano ciò che gli fa bene quando il corpo è malato quindi non c'è un equice uno squilibrio nel corpo il corpo è attratto da ciò che aumenta quello squilibrio per quello lui diceva quando una persona è malata e viene da lui lui chiedeva per prima cosa ti piace di più mangiare e lui ha fatto l'esempio se il paziente mi dice l'anguria io non vado neanche a cercare di capire perché l'anguria gli possa fare del male gli dico smetti di mangiare l'anguria perché noi di solito quando abbiamo uno stato dove non c'è equilibrio siamo attratti da ciò che aumenta quello squilibrio basta vedere in un rapporto fra due persone quando il rapporto è ben equilibrato c'è armonia le due persone sono attratte da ciò che mantiene l'armonia uno è attratto da voler bene all'altro da fare qualcosa per il bene dell'altro per coltivare quella relazione eccetera eccetera no poi a un certo punto succede qualcosa per esempio nella natura del desiderio uno comincia ad essere insoddisfatto o succede un evento di qua che uno rimane male un'altra cosa di là che l'altro rimane male e si comincia a perdere quell'equilibrio ma se tu a un certo punto mi tratti in un modo aggressivo quindi perso l'equilibrio qual è la mia tendenza la nostra tendenza spingere nella direzione opposta o rispondere nello stesso tono rispondere nella stessa modo tirare verso la stessa direzione ok quindi quando c'è squilibrio noi siamo attratti da ciò che aumenta lo squilibrio è così perciò io quello che ho cercato di fare cerco ancora è che quando vedo una situazione che non è una situazione bella è una situazione di squilibrio a livello sociale a livello fisico a livello relazionale a livello mentale quel che sia e vedo che c'è una reazione abbastanza naturale un impulso di fare un qualcosa guardo prima e vedo e cerco di vedere con me stesso se quella reazione va a spingere in quale direzione perché spesso la reazione migliore è quella opposta quella che va nella direzione opposta ossia tu mi tratti con aggressività io cerco di accoglierti e non reagire con aggressività perché spesso quella aggressività è il risultato di uno stato di malessere della persona e cerco di accogliere di ascoltare di capire che cosa c'è dall'altra parte e non entrare in quella cosa che conosciamo bene che è un doppio attacco e difesa continuamente attacco contro attacco perciò dove c'è uno squilibrio dobbiamo cercare di mettere l'energia verso l'equilibrio e non di tirare ancora verso quell'esquilibrio lì perciò coltivare nella nostra vita quello che ci fa bene pensare a medio e lungo termine non stare solamente a vedere a breve termine quello che succede e nel pensare a medio e lungo termine personalmente l'unica certezza che io ho trovato non sono le persone che mi circondano che voglio un bene del mondo e di cui mi fido pienamente però prima di tutto tutti moriamo secondo siamo tutti impermanenti mentalmente fisicamente in tutti i sensi le situazioni che mi circondano io in questi pochi anni di vita ho visto delle cose che non mi sarei mai immaginato perciò sinceramente se domani qualcosa c'è un cambio enorme dico ok non non so io difficilmente credo che mi mi scombussolo con qualcosa però dinanzi al non sapere io quello che credo che sia importante è mettere energia dove ci abbiamo un po' di sicurezza è un po' simile quando qualcuno viene da me mi chiede là ma cosa pensa degli extraterrestri sinceramente io credo che sia un'enorme arroganza da parte nostra come umani credere che non ci sia vita fuori da questo pianeta visto i piccolini che siamo e quanto grande è l'universo si parlano da quello che la nostra scienza riesce a vedere si parlano di miliardi e miliardi di non milioni miliardi di galassie con miliardi di pianeti e di sistemi solari e poi non è che la vita necessariamente deva essere nei parametri che io oggi riconosco come essere umano nel ambito in cui sono però sinceramente io non vado a occupare il mio spazio interiore a cercare di descrivere com'è un extraterrestre com'è quando è non è non faccio la minima idea qualunque cosa che io dicessi non sarebbe altro che frutto della mia immaginazione insieme con un po' di Spielberg e chissà che altro perciò se un domani c'è un extraterrestre piacere vabbè nel senso che io non so cosa accadrà domani le possibilità sono innumerevoli e qualunque cosa che io mi metto a pensare oggi in gran parte non sarà altro che frutto della mia propria immaginazione io prendo la mia esperienza vissuta fin d'oggi le mie proiezioni e cerco di immaginare cosa accadrà domani di questa mia proiezione la gran parte sarà sbagliata questa è come la vivo io perciò è inutile che io cerca di vivere oggi cercando di avere controllo di una cosa di cui non ho modo di aver controllo che è che cosa succede intorno a me non lo so se qualcuno crede di poter avere controllo del mondo che ci circonda io non ho controllo di che cosa succede da un punto di vista geopolitico adesso con questa ultima guerra in Europa è venuto un po' fuori diciamo magari la guerra arriva qua magari può succedere questo e quell'altro io ci stavo pensando io non riesco a connettere con nessuna generazione umana che non abbia vissuto una guerra è una brutta verità e noi pensavamo che in qualche modo noi fossimo la prima magari non vuol dire che la guerra necessariamente così come sta avvenendo adesso in Ucraina arrivi qui spero di no in tutti i modi possibili immaginabili inimmaginabili però quello che sono per noi certezze poi a un certo punto vediamo che non sono così solide su tantissimi ambiti perciò io non ho controllo su quello che succede nell'ambito politico posso votare nel meglio delle mie consapevolezze devo votare nel meglio della mia coscienza e della mia conoscenza senza dubbi devo essere attivo nella vita sociale eccetera però io non ho controllo su ciò che accade né io e non credo nessun altro perché la nostra società è l'insieme di tantissimi fattori fra questi ognuno di noi perciò su che cosa ho controllo almeno un po' di controllo dove posso mettere la mia energia che so che effettivamente mi potrà portare dei buoni risultati su che cosa mi posso fidare sulle risorse che io possiedo dentro di me che sono indipendenti dal contesto in cui mi trovo pazienza gratitudine soddisfazione amore compassione rispetto umiltà generosità stabilità il rigioire potere di realizzazione coerenza quindi saggezza concentrazione sono tutte risorse che se noi più abbiamo queste risorse meglio riusciremo ad affrontare qualunque situazione nella quale noi ci troveremo però purtroppo non sono risorse che si possono sviluppare da un giorno all'altro sono risorse che vanno coltivate che vanno gradualmente sviluppate uno deve allenarsi gradualmente in tutto ciò finché poi ottieni una certa stabilità ok perciò noi non siamo qua a incolpare i nostri genitori o la scuola il contesto socioculturale in cui siamo cresciuti per dire vedi i miei genitori non mi hanno educato questo il sistema educativo non va bene perché non mi ha educato nei rapporti con le persone quindi oggi vedi dove mi trovo non siamo qui per vittimizzarci perché non serve a niente scusate se sono un po' diretto noi siamo qui per prendere le reddine della nostra vita nelle nostre mani smettere di puntare il ditto addosso al mondo e dire io come voglio vivere al di là di quello che mi succede intorno perché perché io morirò fra un po' e non ho tempo da perdere con stupidate non ho tempo da perdere con la gelosia di qua con l'invidia di là con il questo ha detto con il quello ha fatto ma perché ma io volevo e non posso e questo non doveva essere così invece lo è non ho più tempo per queste cose non ho più tempo per stare lì all'arrabbiarmi con questo rimanere invidioso con quell'altro non c'ho più tempo da perdere finché io credevo di vivere come immortale va bene ma la realtà è che fra un po' è finita quest'opportunità che abbiamo e morire in sé non è un problema ripeto morire non è un problema non c'è niente di male nel morire noi come esseri umani abbiamo questa idea generale diffusa in tutte le culture che quando si muore è una brutta cosa e ovviamente io non lo vivo in un modo piacevole quando le persone vicine eccetera muoiono e non credo che sia una cosa bella che tante persone muoiono non sto dicendo questo però la vera brutta cosa non è morire è vivere male è vivere in un modo che noi stiamo coltivando sempre di più delle predisposizioni che generano sofferenza la cosa brutta è vivere nell'insoddisfazione nell'odio nel rancore nella paura nell'ansia questo è brutto e con questo non sto invitando nessuno a morire perché tanto non risolve quello che dico è diamo priorità a quello che sono le cose più importanti prima o poi moriremo e lo sappiamo e dobbiamo ricordarcelo e ce lo ricorderemo io non mi stancherò di ricordarci e non abbiamo tempo da perdere veramente perché se noi ci mettiamo faccia a faccia con la nostra morte le nostre priorità cambiano e la morte è qui siamo noi che facciamo finta che non ci fosse e qualcuno dirà ma sarà che lama sta dicendo che morirò presto no mi sto dicendo che morirai e quando nessuno di noi sa e che anch'io morirò quando non faccio la minima ma la minima idea posso dirvi che io c'ho l'intuizione che quindi la mia sensazione è che vivrò a lungo io da piccolo ho sempre avuto la sensazione che avrò una vita lunga ma non è detto poi lungo corto è tutto relativo non sappiamo io qualche giorno fa ho avuto un'esperienza che è stata la seconda volta nella mia vita mi ha fatto riflettere seriamente la prima volta è stato qualcosa di simile quando ho fatto un intervento chirurgico che è durato cinque ore è finito l'intervento che è andato tutto bene eccetera per un mese dopo l'anestesia generale di cinque ore ero rimbambito la capacità di concentrazione era pari a zero prendevo un libro avevo circa 16-17 anni prendevo un libro o qualcosa del genere leggevo un paragrafo capivo le parole non riuscivo a metterle insieme durato più o meno un mese piano piano migliorando qualche giorno fa ero verso la fine del covid stavo bene ho avuto questa esperienza che ho anche raccontato un po' di persone perché è stato un po' scioccante per me mi ha fatto riflettere dovevo mandare un'email operazione facile io poi il computer ci so fare non è che sia una cosa così fuori dal mondo apro il programma del mail ero lì apro l'email scrivo l'indirizzo devo mettere un allegato facile apro il finder vado dall'altra parte mi sono dimenticato quello che dovevo fare ah cosa dovevo fare torno indietro ok torno apro l'email vedo l'indirizzo ah devo mandare quella cosa lì ritorno per mandare mi dimentico una volta ancora a questo punto ho detto ho mandato la mail subito mi sono capito ho mandato la mail ho detto fammi dormire un po' riposare perché qua la cosa quello che mi ha fatto riflettere è che questa certezza che io ho oggi di avere una mente sveglia di poter avere una buona memoria una buona consapevolezza non è detto che rimanga tutti noi invecchiamo tutti noi possiamo avere momenti fra una malattia piuttosto che una cosa un'altra che boom quando vedi quella chiarezza non c'è più e non è un grande problema quello il grande problema è l'opportunità che abbiamo perso quando avevamo la chiarezza se non l'abbiamo utilizzata bene c'è un'amica mia amica di mia madre discepola dell'amaganza in Brasile la Elie una persona a cui ci vuole tantissimo una persona bellissima stranamente nel momento più bello della sua vita quando finalmente le cose aveva avuto un sacco di problemi economici di lavoro di vari genere a un certo punto che andava tutto bene ha avuto un ictus ed è rimasta mezza paralizzata un po' dopo di un po' si è ripresa mentalmente la parte cognitiva non ha più mai più ritornato veramente non sappiamo il vero punto è che prima o poi ok si muore ma che cosa sto coltivando dentro di me che porto con me quindi quello che mi ha fatto riflettere questo piccolo episodio che per fortuna c'è stato una volta lì perché io di tutte le cose che ho quella di cui una di quelle che per me è sempre stata una delle più importanti è avere una mente chiara e avere mente chiara e armonia fra quello che penso e quello che sento queste sono due cose che secondo me è fondamentale e avere un buon cuore però visto che non è detto che ci sia sempre così quando noi viviamo un momento abbiamo da qualche parte quella nostra sicurezza c'è un termine in tibetano che dice l'arroganza del giovane che crede che sarà sempre forte ma sarà sempre così no lo sappiamo io un giorno quando mi capita di vedere allo specchio in certe occasioni io ho dei ricordi che non sarà sempre così basta guardare qua e vedere che piano piano i capelli diminuiscono è un segno che sono vivo quindi sono impermanente il mio corpo si trasforma e va benissimo ma devo utilizzare bene le risorse che ho perché non so quanto dureranno così come sono oggi le cose possono capitare nel modo in cui meno ci aspettiamo perciò la vita è da vivere al pieno senza pentimenti si dice che è una praticante spirituale al di là della religione ha tre attitudini tre livelli in cui può arrivare davanti alla propria morte il primo diciamo il minimo che è già tanto è morire senza pentimenti arrivare davanti alla propria morte e non aver pentimenti non aver quel sentimento avrei potuto fare e non ho fatto avrei dovuto fare e non ho fatto ho fatto quello che non avrei dovuto fare non essere in pace con la propria vita non aver quello non aver pentimenti secondo livello non aver pentimenti e non aver paura terzo livello non aver pentimenti questo è il livello master già proprio e non aver pentimenti e non aver paura e saper utilizzare della morte come un'opportunità di crescita spirituale che è un qualcosa di possibile però già abbastanza difficile però non è l'argomento di oggi in questi 15 minuti non apriamo questa porta adesso però il primo punto morire senza pentimenti come possiamo assicurare di poter morire senza pentimenti l'unico modo è arrivare alla fine giornata e riuscire a dormire senza pentimenti non c'è un altro metodo anche perché c'è un altro detto che dice quando andiamo a dormire non sappiamo cosa vedremo per prima il giorno di domani o la prossima vita quante sono morti nel sono? non voglio mettere paura prima di dormire però quello che fatto sta che noi non sappiamo del tutto no? ok quindi quello che succede è che quando andiamo a dormire almeno riuscire ad arrivare alla fine giornata senza pentimenti ci capita di fare può succedere che facciamo qualche stupidata che togliamo il può succederà sicuramente non sia che siamo già dei buddha che faremo delle stupidate anche con la migliore delle intenzioni non so se aveva mai capitato di fare del male a qualcuno con la migliore dell'intenzione capita a me mi è capitato e credo che capiti a tutti perciò quando arriviamo a fine giornata e ci guardiamo ci osserviamo guardiamo negli occhi di noi stessi vediamo come abbiamo vissuto la giornata come stiamo e ci accorgiamo che ci sono delle cose di cui non siamo fieri dei nostri stati emozionali delle scelte che abbiamo fatto delle cose in cui ci troviamo eccetera la prima cosa da fare è accoglierci con amore non è riprenderci dire a cattivo dobbiamo accogliere a noi stessi con amore è come se noi dovessimo abbracciare noi stessi immaginate un bambino che arriva e che ha fatto qualcosa che si rende conto che non avrebbe dovuto fare il bambino viene da noi e dice ho sbagliato non avrei dovuto fare questo mi scusi è una cosa facciamo cattivo bom vediamo una bastonata così impari cosa succede la prossima volta che il bambino si accorge di aver fatto qualcosa di sbagliata non ce lo dice più invece se il bambino ha fatto già tutto il suo processo di auto analisi di vedere che ha fatto una cosa che non dava bene ha capito che quell'azione non dava bene si è reso conto viene da noi dicendo ho sbagliato cosa dovremmo fare noi accoglierlo non bastonarlo e neanche dire ma non fa niente ma non è nulla povero bambino ha fatto tutto un processo per capire che quel comportamento non andava bene e noi lo sminuiamo così non serve a nulla quello che ha fatto cosa dobbiamo fare secondo me accoglierlo con amore e dire ok hai fatto questo hai capito che non andava bene come possiamo assicurarci cosa possiamo fare per non dover ripetere questa stessa cosa o cosa possiamo fare per mettere a posto qualcosa che non andava bene abbiamo fatto male a qualcuno come possiamo chiedere scusa a quella persona fare qualcosa per aiutarlo ma innanzitutto cosa possiamo fare per non ripetere quella stessa cosa quindi è accogliere e direzionare ed è quello che va fatto di noi con noi stessi se noi riusciamo ogni giorno ad accogliere noi stessi con amore e a direzionarci questo non va bene ah ho mentito di qua ok questo non funziona alla fine genera più sofferenza non dovrei mentire così quindi io mi direziono almeno con l'intenzione non voglio più mentire non devo più mentire immagino una situazione simile dirò in questa situazione non reagirò più in questo modo e vedo e cerco un'alternativa ok quindi io mi accolgo e mi direziono perché per morire bene dobbiamo essere in pace con la vita ma questo la pace non è una cosa che si ottiene la pace è qualcosa che si costruisce e si coltiva si mantiene sia la pace di noi con noi stessi sia la pace di noi con la famiglia con il lavoro con le persone in cui ci troviamo sia la pace in un paese perché la pace non è solo la mancanza di conflitto la pace è l'armonia l'armonia va costruita perciò da parte nostra per essere in armonia con la nostra vita per essere in pace con noi stessi e con la nostra propria vita è importante coltivare questo ogni giorno ci saranno dei giorni che andremo a dormire e che non siamo totalmente in pace con noi stessi sicuro e faremo uno sforzo in più il giorno dopo per accoglierci per avere il coraggio di guardarci in faccia e di uso un termine che nel buddismo di solito non si usa ma di perdonare se stessi perdonare inteso come accoglierci con amore e direzionarci accoglierci non vuol dire ho fatto una stupidata va bene ma cosa vuoi che sia ripeti domani no accogliere vuol dire mi accorgo ammetto apertamente che non va bene e non lo voglio ripetere per quello che vado a ridirezionarmi c'è quella persona con cui vorrei parlare e non parlo chiamala mandali un messaggio io da ragazzino in Brasile a scuola giocavamo a volley e c'era ogni tanto che si faceva un cerchio e si lanciava la pala e passava da uno all'altro eccetera no e ogni tanto succedeva che la pala cadeva in mezzo fra due perché ognuno pensava che l'altro la prendesse e utilizzavamo un termine che era descia che io descio lascia che lo lascio anch'io no quello che accade è che ogni tanto io ho visto per esempio persone che passano anni con rancore che non si parlano fra di loro perché uno non parla con l'altro perché l'altro non parla con l'uno non so se avete mai visto una situazione del genere ah ma l'altra cosa mi fa ridere per modo di dire fa più piangere che ridere però io ho già visto i versi lui non mi saluta e tu l'hai salutato no ma chi deve salutare per primo se tu ci tiene saluta tu ah ma non mi ha salutato mi ha tolto il saluto e magari lui pensa che sei stato te a togliergli il saluto no 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 è stato lui e questi rancori certe volte quanto tempo è possibile portarli avanti giorni anni speriamo non vite in un certo punto c'è una cosa bellissima che è molare il colpo ok tu non mi hai salutato ma io ci tengo perché se io non ci tenessi non starei male se io non ci tenessi sarebbe normale uguale ma se io rimango male che tu non mi hai salutato però io non ci tengo al tuo saluto però rimango male quindi vuol dire che ci tengo e se ci tengo cosa devo fare andare lì a salutarti buongiorno come stai e se tu non mi saluti è un problema tuo non mio no l'amagancin diceva quando lui lui diceva quando io do l'amicizia a qualcuno per me è per sempre se la persona dall'altra parte dà la sua amicizia a me o meno è una sua scelta non mia ed è un suo problema non mio la mia amicizia non è il risultato di come tutti comporti nei miei confronti è una mia scelta non so se è chiaro questo che ci vogliono una certa maturità ma è possibile quindi se noi andiamo a dormire e vediamo ah sono in pace con il mondo ah no con quella persona lì no ah c'è un po' di problemi di qua c'è quello di chiamate andate a vedere mandate un fiore dai un emoji anche abbastanza facile però certe volte è anche faticoso sembra mandare un emoji un fiorelino non va certe volte perché uno è bloccato dal proprio ego è l'altro che deve mandare a me non io a lui invece moliamo il colpo perché deve essere così faticoso guardare l'altro e dire ti amo ti voglio bene non funziona non funziona abbiamo due modi diversi di essere però ti voglio bene non mi tengo il rancore non me lo porto poi se tu lo capisci se tu non lo capisci se tu vuoi questo è un problema tuo non mio ma io non mi tengo adosso i miei rancori paure no oltre se noi ci alleniamo ad arrivare alla fine giornata senza rancori senza pentimenti guarda è un bene che facciamo noi stessi in un modo enorme e non è un me ne freghismo ah no me ne frego di quello che è successo non è quello e arrivare alla fine giornata e guardare se stessi lo sbagliato sì perfetto quindi devo imparare a fare diversamente è un po' simile a quando qualcuno dice sei buddista non dovresti arrabbiare non è vero se uno si ritiene buddista in nessun momento c'è la regola i buddisti non possono arrabbiarsi se ti arrabbi non sei più buddista ma uno è buddista proprio perché si arrabbia perché sennò sarebbe già un buddha un buddha non ha bisogno di essere buddista chi ha bisogno di essere buddista sono quelli che sono messi male non quelli che stanno perfetti no? che hanno bisogno del percorso per superare i propri veleni mentali e tutte quelle altre storie che ci sono insieme proprio perché abbiamo bisogno no? quindi parte da questo fatto dell'accoglierci con amore e direi ok va bene va tutto bene con me stesso nell'insieme di tutte le problematiche menate cose eccetera eccetera e mi direziono io rispetto la misura delle mie gambe rispetto dove mi trovo perché se io ho fatto questo o agisco in questo modo è perché le cause e condizioni nelle quali ho vissuto non ho saputo fare del meglio ma in questo momento ho la consapevolezza e dentro la consapevolezza che ho devo direzionarmi al meglio e se noi riusciamo veramente a fare un po' di questo già questo da solo ci aiuta tantissimo quindi io vi invito di cercare di quando uno è letto invece di passare le ultime momenti del giorno a cercare di annientare la mente con qualche distrazione nulla contra vedere un film o qualunque cosa ma almeno dedicare un po' di tempo per osservare la giornata riflettere un po' se uno è in pace con il mondo o meno se uno è in pace con se stesso se uno è in pace con le persone che circondano rivedere un pochettino quello e dove vediamo che non è mettiamo l'intenzione per il giorno dopo di che cosa dobbiamo fare che cosa vogliamo fare in certi casi non aspettare neanche il giorno dopo uno manda un messaggio uno chiama fa qualcosa perché così andiamo avanti caso contrario andiamo a rinforzare quelle cose che ci sono già ok perciò la conclusione rinforzare le nostre qualità perché l'energia non va messa contro l'ombra va messa verso la luce se c'è oscurità io non voglio quell'oscurità è inutile che sto a puntare il dito contro l'oscurità e dire è buio è buio è buio che brutto è buio io quello che devo fare è come faccio a portare la luce ok devo direzionarmi verso a portare la luce lì dove è buio e nella nostra vita il punto fondamentale dove va messa l'energia una parte è nel avere consapevolezza di ciò che non va bene e punto ma quella è una parte piccola del sentiero vedere e avere consapevolezza dei nostri condizionamenti dei nostri atteggiamenti che non vanno bene è una parte piccola del sentiero l'altra parte che viene dopo è il non nutrire quegli aspetti negativi che non è l'andare contro gli aspetti negativi ma il cercare di non nutrirli e la parte principale è il coltivare e familiarizzarci con gli aspetti virtuosi positivi quindi dobbiamo familiarizzarci con la stabilità con la gioia con l'amore con la generosità con l'umiltà con la gratitudine non viene spontaneo no è proprio per questo che dobbiamo familiarizzarci che qualcuno dirà ma se non è spontaneo non è vero non è neanche proprio così no un po' scherzando quando diciamo è meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale artificiale non vuol dire falso vuol dire che non è spontaneo che uno deve mettere uno sforzo per generare quel sentimento che non viene da solo e noi dobbiamo in qualche modo indurre noi stessi a generare gli stati di coscienza i modi di agire fisiche e verbali che sono positivi virtuosi che fanno il bene a noi e agli altri che poi alla fine che cosa vuol dire virtuoso positivo ciò che nel suo interagire porti a più felicità e meno sofferenza quello è ok se noi dovessimo definire che cosa è qualcosa di virtuoso di positivo che cosa è qualcosa di non virtuoso e negativo non virtuoso e negativo è ciò che nella sua interazione aumenta la sofferenza e taglia la radice taglia le possibilità della felicità ciò che è virtuoso e positivo è ciò che nella sua interazione porta a diminuire la sofferenza e a sostenere la felicità e il benessere questo è il nostro compito è quello di sempre di più coltivare ciò che è virtuoso e abbandonare ciò che è non virtuoso e negativo però che questo sia una priorità della nostra vita al di là del lavoro al di là della situazione geopolitica al di là della situazione economica al di là della situazione dei relazionamenti umani in cui noi ci troviamo non importa dove io sarò con chi io sarò in quale situazione io mi troverò in quale paese io sarò coltivare la virtù e abbandonare la non virtù è la mia priorità e con questo diamo anche una direzione alla nostra vita e prendiamo controllo di ciò di cui noi possiamo avere controllo ok io sono sicuro che se ognuno di noi che è qui cominciasse a raccontare tutte le proprie problematiche no una volta con l'amaganza è successa una cosa simile eravamo nella Concagua queste bellissime montagne nel Cile che stanno fra Cile e Argentina e dopo la sera era un ritiro lì insieme con l'amaganza dopo la sera l'amaganza chiese a ognuno di dire come è stata la sua esperienza quei giorni e come mai era lì siamo stati lì quattro ore è stato bellissimo su tantissimi aspetti però c'è chi ha raccontato la propria vita in versi che va bene che va bene nel contesto ci stava ma io sono sicuro se ognuno di noi qui comincia a raccontare le proprie problematiche le proprie sofferenze e di qua e di là non c'è uno che si salva nel senso che tutti noi abbiamo da dire qualcosa o no io per primo non lo so voi magari voi siete tutti dei Buddha qua per aiutare me non lo so magari no e se fossi non diresti mai che siete perciò non lo so però prendendo la prima probabilità che è più reale che siamo qua tutti insieme in questo percorso sono sicuro che ognuno ha le nostre cose e se non sono queste di questo momento ieri sono state altre all'infanzia c'era una dopo all'adolescenza c'era un'altra poi a un certo periodo della vita c'era una poi c'è un'altra poi c'è un'altra poi c'è un'altra poi si sommano è così e ognuno di noi che qua c'è le nostre il punto è cercare di uscire un po' da questo ciclo vizioso di stare sempre a guardare il mio problema la mia difficoltà e questo e quell'altro e vivere come se la condizione per star bene fosse che queste situazioni non ci fossero più ma ripassare la priorità su come io vivo vivere una vita virtuosa ricordo virtuoso è con un'attitudine fisica verbale mentale che nella sua interazione aiuti a sostenere la felicità e diminuire la sofferenza è questo e punto i problemi ci sono ci saranno si risolvono si ritornano non importa va bene ma l'importante è come io lo vivo e che cosa io divento in che modo io cresco nell'insieme di tutto questo ok perché poi apro e chiudo una parentesi veloce per la fine però certe cose se non dico rimangono qua dietro gran gran parte della nostra vita è un film di cui noi siamo il regista poi ci lamentiamo delle sceneggiature se vediamo se il nostro film è un horror piuttosto che una comedia è una scelta nostra non consapevole spesso però è una nostra scelta perciò cerchiamo di relazionarci con le cose in un modo che possiamo rigioire possiamo coltivare ciò che ci fa bene possiamo vedere l'atto bello della vita quindi ringraziare di più lamentarci di meno per esempio probabilmente da quello che sembra da quello che la logica un po' ci dice ci fa vedere stiamo andando verso di più un momento di crisi economica o no io quando adesso dovendo fare la costruzione del tempio quando parlo con i fornitori che sono diventati amici che fanno i vari lavori eccetera dicono una cosa così mai vista su tanti versi eccetera eccetera quindi se noi vediamo il rapporto che c'è fra l'Ucraina e Russia in relazione al cibo a livello mondiale possiamo già immaginare basta poco per immaginare che ci sarà una crisi cosa posso fare posso stoccare chili e chili di cibo aspettando magari io non lo faccio però io posso rinforzare le mie risorse che mi aiuteranno ad affrontare ciò che ci sarà e magari per esempio nel contesto in cui la maggioranza di noi che siamo qui ci troviamo non è che sia uguale per tutti certe volte anche una crisi economica ci può avere un aspetto che ci fa ritornare un po' alle cose più basiche a capire andare un po' al di là del valore materiale delle cose ritornare un po' al valore materiale non economico ma fisico delle cose che hanno ritornare un po' alle funzioni che hanno le cose io oggi stavo vedendo mi sono messo il maglione poi mi sono accorto è un po' messo male qua il gomito ma come vado a Milano al Kumpen che c'ho il maglione bucato che di qua ramendato ma come la mia domanda che ho fatto a me stesso questo maglione a cui ringrazio gli animali che vengono dalla Mongolia che sono stati lì è stato tolto il loro pelo poi qualcuno me l'ha regalato che è venuto dalla Mongolia eccetera eccetera fa la sua funzione o no quando c'era il buco un po' meno poi è stato ramendato e ritornato a fare la sua funzione al pieno la funzione del maglione non è farmi apparire in un certo modo è riscaldarmi e quindi ben venga finché farà la sua funzione che sirva per quello no? e certe volte noi perdiamo la connessione con le funzioni delle cose e attribuiamo altri valori e certe volte una crisi tra virgolette economica può anche creare altri effetti collaterali positivi e anche alcuni negativi non sto togliendo quello non sto dicendo tutto bello non sto dicendo quello sono tutte le problematiche che vengono con una crisi economica però c'è una parte di noi che può anche ritornare a dire ok devo rivedere che cosa è veramente essenziale per me dove vado ad utilizzare le mie risorse come voglio vivere ok per il più assurdo che possa sembrare scusate che vado un po' oltre prima di parlare della guerra c'era il discorso della crisi climatica c'è stata la copp 22 parlando riscaldamento globale eccetera eccetera io ho visto in poche persone la volontà di dire ok metto riscaldamento a 18 gradi perché l'ambiente è importantissimo ma il mio comfort vale molto di più scusate se sono un po' esagerato magari nel modo di esprimermi invece quando arriva il prezzo del gas sta salendo abbassiamo il riscaldamento perché in qualche modo sono obbligato a farlo magari tutto questo ci fa riflettere quindi certe volte non tutti i mali vengono per nuoccio nel senso che hanno un aspetto negativo e c'hanno anche altri aspetti positivi la differenza è come noi lo affrontiamo e ripeto non sto dicendo che sia tutto meraviglioso al contrario però c'è una parte dipende di come noi andiamo ad affrontare come noi lo viviamo perché ci troviamo davanti a situazioni di cui noi non abbiamo controllo come io lo affronto ok questo era quello che volevo solo ribadire ancora su questo punto io volevo veramente ringraziare ognuno di voi per essere qui sono contento che oggi è la prima serata effettivamente senza prenotazioni quelle cose strane molto meglio che possiamo venire quando vogliamo quando possiamo e io vi ringrazio per essere qua con la mente attenta col cuore aperto perché questi momenti che abbiamo insieme non sono momenti per insegnare qualcosa ma per me sono più che altro momenti per riflettere su quello che noi già sappiamo io non credo che ci sia nulla di quello che abbiamo detto oggi che voi non sappiate però molto spesso però molto spesso ci perdiamo nella quotidianità e tra virgolette ci dimentichiamo e ogni tanto è importante ritornare ok questo è tutto facciamo le nostre dediche ok volevo anche specialmente ho visto il Paolo che c'è il suo padre che ha lasciato il corpo di lui di Luisella che ha lasciato il corpo qualche giorno fa tre giorni fa venerdì mattina quindi è passato un po' di più io col tempo sono sempre un po' così quindi era nome del tuo padre ancora? Giovanni quindi facciamo anche una dedica specialmente per Giovanni Omani Pemehom Arhe Omani PEME HUM CHAM DENGYAL VA SHITRU ALHATSU KEN PAR DO JIKPE TRANGLE TRAL DO SOT SIDE SEMCHOR IMPO CHE MA KE PANAM KE GYUR CHE KEPANYAM PAR ME PAYAM KONG NE KON TU PHEL VAR SHU OMA NI-PAE ME HUM ARHI OMA NI-PAE ME HUM CHAM DENGYAL VA SHITRU ALHATSU KEN PAR notch Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione